allora questo gioco l'ho visto su twitch tempo fa un po non tanto tempo fa e quindi dovrebbe essere del carino io farei una partita di sole e poi una con l'altra e quindi vediamo il short del short del short del short del luxury edition ma vabbè la musica la reddolla linguaggio spagnolo è un po' spagnolo è un po come è ok penso di aver già capito come si fa qua ok con questo si salta per alzare le mani questo la visuale come si, come si, come si, come si come si fa ok, qui ci si scryte detto eh, push, push ok oh, oh, oh Aspetta Vabbè Oh finalmente Finalmente Ok Allora Intanto prendiamo sta pacco E poi Dobbiamo spedire Facilissimo Ok Ok Qua c'è un altro Vediamo Non so come poter Ehi 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 Ma sei jogato qua dentro Ok È meglio Favere quest'altra Consegno Che avvenciato Ah Mi apposso la gesta Che c'è Ok Dobbiamo andare lì Mi va pure l'audio qua L'ho preso Ma l'ho preso L'ho preso Ma l'ho preso Ma l'ho preso Ma l'ho preso Allora Allora Andiamo a metterlo qua Dove è solto E non ci metto Ah No No Non mi metterlo qua sopra Dove è? Dove è? Ah Ma così Si alza il braccio E poi si molla Vediamo Oh Perfetto Ok Giusto Allora Dove è solito qua E' un po' No Si Bellino Sto già Guarda Allora Questa No Ok Ehm No No Mi devo staccare prima Ho preso il pacco L'ho preso E l'ho preso Ma veramente Faccio prima a piedi forse No No Sto distruggendo Sto basso Vai 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 Fermo Lascialo Ok Ehm Forse si fa Ora devo guidare Ecco Devo guidare Piano 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 Un uomo Un uomo Ehm 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 Forse Fai La Affanzina Ma le ho potuto scendere di nuovo Madonna Lo prendo? L'ho preso? No No L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso Questo braccio, in qualche modo ce l'ho fatta, versando, ecco, scendo, non dietro, pacco, ecco, ok, ci siamo, dovrei uscire di qua soltanto. E dai, ma, si è incastrato il piede, oddio, non fare cos'è scena, dai, però è passato di qua, niente, oh, si è incastrato, ma cosa si fa, assi, dai. Allora, ok, ora ci siamo, forse, no, no, proprio si è buggato, si è buggato, o no? Oh, come va, come va, come va. Come va, come va, come va. si può anche tenere premuto questo qua è il gioco in modalità singolo ah full game c'è pure kick player ok online proviamo online oh no bisogna comprarlo lost game start vediamo se qualcuno si unisce e vediamo quello che si può fare se no pazienza vediamo uno oh che vuol qua ok ok oh no non come c'è nulla ok 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 questo qua un altro col ah Ah? Nooo, si è incastrato Si è rimasto incastrato, no, vero? Ma dai, però... Ah, vabbè, vabbè, vabbè E dove c'è stato? E' stato Allora Facciamo qualcosa di nuovo Oddio, un'altra volta col camera Madonna Vabbè, stavolta ce la voglio fare, dai Dai, dai E' piano Ma no, lo devo mettere più avanti Magari faccio una frenata E... Eh... Devo accendere la... Dai E' nato Allora, dobbiamo andare piano piano, stavolta la Qua Qua deve passare... Eh, sì, sì Allora, adesso la metto da fuori e la metto da fuori Quindi... Ok E' nato da fuori... Appresso... Un'altra, un'altra... ok oh no 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 dai 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 allora qui c'è un'altra e poi c'è questo ok questo è morto allora faccio quest'ultimo e basta vai oddio oddio ok un'altra volta ok 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 dai ok 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 andiamo andiamo scoperto il trucco diciamo oh ok 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 non scendere sotto per favore allora io mi voglio togliere l'acqua ci abbiamo fatto all'aspetto che ancora non è detta l'ultima parola dai alzo il braccio e dai allora io vorrei calzeggiare un attimino, voglio provare una cosa ci siamo? qua si è staccato, si facciamo un po' di forza ora viene anche il pacco voglio vedere un po' ok 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 c'è un limite c'è un limite no non ti devo tenere qua devo tenere il joystick aspetta ho capito aspetta allora uno e due così non mi trovo lungo uno e due e potenza questa cosa sale dappertutto oh e e e e e e e e e aspetta e 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